SONO ZOMBI! SMETTI DA STUPIDO! Tutta la classe è fisata con questa applicazione che dei selfie mette l'effetto zombie! Non ce l'hai, è fantastica, ti faccio vedere! SONO ZOMBI! Strano, sembra che non ci sia nessuno! Saranno già tutti entrati! È impossibile, non è neanche suonata! SONO ZOMBI! No! SONO ZOMBI! Buongiorno, Ross! Avete fatto i compiti? Cosa succede? Non lo so, ma scappa! SONO ZOMBI! SONO ZOMBI! Aluare! FIANTE CONTRO ZOMBIE Mi sono a giudice in maggiore! Oh, oh, oh. Fiatte contro Zombie? Ah, 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 ah. dobbiamo riparla. Non ce la faccio più! Ma li hai visti? Ha asomigliono un sacco ai zombie che crea in con lap. Ma credi che sia possibile? Che l'applicazione riesca a trasformarli in zombie Ma se è così Allora dovresti esserlo anche tu Stamattina l'hai usata? Surfing Stanno arrivando! Surfing Surfing Andate via! Andate via! Surfing Felt 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.